Noi abbiamo scritto due righe che poi le lasceremo, volevamo soltanto introdurre un po' quello che le volevamo dire. In buona sostanza noi abbiamo alcune questioni che sono molto sensibili per noi e quindi volevamo fargliele presente. Innanzitutto la questione della concessione che abbiamo visto che è in corso un'attività e come immaginerà noi come parenti delle vittime su questa questione per noi non eravamo scoperto perché durante la gestione attuale è successa questa disgrazia e poi purtroppo stiamo vedendo molte altre cose che stanno accadendo e quindi volevamo solo comunicare la nostra sensibilità. Noi ovviamente non siamo dei tecnici per cui non riusciremo a capire fino in fondo magari quando la documentazione sarà redatta completamente se sarà una cosa buona per tutti i cittadini o meno. Quindi volevamo dire che per noi era importante che i cittadini non dovessero poi andare a compensare tutti questi anni di mancanze perché non è giusto e soprattutto che chi ha causato e si è arricchito in questi anni al nostro modo di vedere ingiustamente non possa uscire da questa società in modo da arricchirsi enormemente. quindi questa era solo una nostra sensibilità di cui volevamo farla partecipare. Poi ovviamente per noi è fondamentale la parte processuale e la parte processuale per noi è un po' come direi il fine della nostra battaglia, non ultimo ma uno dei fini importantissimi perché se riusciremo ad avere giustizia per quello che è successo per me sarà per noi, sarà comunque fondamentale per la nostra razione. Mi perdoni ma sono un po' emozionata e mi sono dimenticata di iniziare con la cosa più importante che era innanzitutto ringraziarla perché noi abbiamo enormemente apprezzato il suo intervento perché per noi pensare a questa giornata come a una festa non era accettabile. Quindi come lei sa perché l'abbiamo scritto, l'abbiamo detto dovunque, la sua vicinanza per noi è stata essenziale e noi non ci dimentichiamo anche della sua lettera dell'anno scorso perché alcuni forse se ne sono dimenticati e noi non. E per noi quella lettera ha avuto un significato enorme perché lei ha preso una posizione per noi estremamente importante. Quindi adesso riparro. Un'altra cosa per noi importante che ha visto noi come abbiamo sperimentato la situazione, il nostro malgrado e secondo noi dovrebbe essere creato a livello nazionale un piano di intervento per situazioni come la nostra.